E' un piccolo premio, non c'è una coppia, è un pensierino, però i nostri giudici hanno deciso di premiare a parte Nico, il solista che ha ballato sabato. Tu ci hai ballato fighter, benissimo, bravo, 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 ricordiamo quanti anni ha, 12, un applauso, i nostri 12, allora io ti premio, ti do il braccialetto dei Mosta X, spero che ti piacciono, e anche il CD dei Cape Blue Jungle. Miglior cosplay, lo vincono? Le, vai, double X, ora fuori, ancora! Vieni, vieni, venite qui, attenzione, guarda, sono le voce, stanno piangendo, io stanno piangendo. Stanno piangendo, bravo. Ragazze stanno piangendo. Regalo, regalo anche a voi la coppa, fatele la coppa. Ragazze stanno piangendo le gambe a teca, più che il CD del Cape Blue Jungle e anche le card degli Shiny. Questo che hanno portato gli Shiny. Ragazze, un altro applauso! Ragazze stanno piangendo. Ragazze stanno piangendo. Ragazze stanno piangendo. Danciano piangendo. Il miglior solista di quest'anno è la coppa, il cd e anche un bono da 15 euro che puoi spendere da cardio italia, adesso devi ballare per tutti loro, vero? Il primo premio è la miglior crew con coreografia femminile, che va a... Il primo premio è la coppa, il cd e anche un altro cd di GOT7, ok datemi tutto, adesso dovete riballare è spiegel della sua . . Giorgrafia maschile Ci sei fra? Sì, io ho preso i premi Ok Il vincitore, anzi i vincitori di quest'anno sono... Yuriyuuu Per voi abbiamo premio CD e il CD special edition degli Infinix Il CD dei Kegel Jungle Adesso dovete ballare, state attenti Sì, io li ritengo io, divertitevi Non cadere Oltre ad avere la coppa HD del Kegel Jungle Oltre ad avere la coppa HD del Kegel Jungle Avrà anche un bono da spendere da Kaito di 100 euro L'anno prossimo vi potete iscrivere, ok? E potete ballare Un uovo forte Un uovo forte Un uovo che parte dal basso e arriva all'alto Quindi... La migliore esibizione di quest'anno va a... Allora, non c'è Sara Soprattutto lei che ieri scoppiata in lacrime Stavo cadendo Ieri sera, ieri sera è stato... E mi hanno dovuto minacciarla E mi hanno dovuto minacciarla per farla smettere E mi ha detto Olli, ho colpito il televisore E adesso che faccio? Sara, 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 Sara dall'altro lato Le scappa su, non piangere Dovete ballare, dovete ballare Approccio di gruppo Attenzione al fogliettino Posizioni Un uovo di sorrisi Un uovo di sorrisi Adesso che ci sono un uovo di sorrisi Ferris di il